161 ho vissuto per 56 anni tra le stagioni che erano sulle montagne fino a quando nella mia mente sono riemerse vecchie cose importanti ed è scoccato il momento inesprimibile in cui dovevo ad ogni costo tornare tra la gente con gli occhi tormentati che guardano da grandi orbite ineguali sono sceso in città e a 83 anni ho chiesto ai passanti di trovarmi una donna che venga a vivere con me commento molti eremiti si ritirano dal mondo per fuggire gli altri ma l'uomo deve condividersi con gli altri è possibile essere eremiti restando in mezzo alla gente isolando la propria mente dalle influenze materiali così l'eremita non crea attrito con la legge